cosa c'è da ascoltarlo? non è l'inferno di Emma ho fatto la vita al stangue per il mio glise e mi ritrovo a non tirare il fin lise, il buono di io e le sue preghiere ho sfrotto fede mentre diventavo padre, due guerre senza garanzia di ritornare, sono ammigalli per l'onore se qualcuno sente queste semplici parole parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene e se tu che coscienza guidi e credi nel paese, dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare, per pagarmi dove fare dimmi che cosa devo fare ma questo no non è l'inferno ma non comprendo come è possibile pensare che sia più facile morire io no non lo pretendo mancare il sogno che tu mi ascolti e non rimangano parole ho pensato a questo invito non per compassione ma per guardarle in faccia e farle insaporare un po' di vino e un po' continuare e se se sapesse che fatico ho fatto per parlare con mio figlio che ha trent'anni tene il sogno di sposarsi è la natura di diventare padre e se e se sapesse quanto sia difficile il pensiero che per un giorno di lavoro cerchi ancora più dritto di chi è creduto nel paese del futuro no questo no non è l'inferno io non lo comprendo come è possibile pensare che sia più facile morire io no non lo comprendo mancare il sogno e tu mi ascolti e non rimangano parole non rimangano parole non rimangano parole non è l'inferno ma non è l'inferno com'è possibile pensare che sia più facile morire non è l'inferno non è l'inferno ma non è l'inferno è un sogno e tu mi ascolti e non rimangano parole Non rimangano parole, non rimangano parole Quanti mesi ha, Giuseppe? Ecco, vedi l'effetto? Vedi l'effetto? Ecco, capisce nulla, deve essere così, non devono capire nulla dopo che hanno cantato, questo è il vero effetto del canto, cioè tipo in palla totale Allora, quanti mesi ha? Deve fare un anno, deve fare un anno, e che esercizio fai? Lo fai sentire a tutti? Si riscalda la voce, lui a meno di un anno si riscalda la voce, grazie, continuiamo